Good morning cari amici del canale youtube, rieccoci, buongiorno, un caro saluto a tutti voi eccoci con un nuovo video, oggi è martedì 4 giugno, giorno comunque importante perché oggi capiremo se il Milan ha spazio per inserirsi nel campionato di serie C con l'iscrizione della squadra Under 23, molto dipende dalle altre società oggi è il termine ultimo per le iscrizioni al campionato di serie C vedremo se qualche squadra rinuncerà per questioni economiche, di stadio o di documentazione il Milan è pronto ad inserirsi, è già tutto organizzato ma c'è bisogno che una di queste squadre, una di queste società non si iscriva al campionato di serie C quindi sostanzialmente è una giornata anche di attesa su questo fronte, fronte Under 23 oggi la Gazzetta dello Sport parlava di un dettaglio di cui avevo fatto riferimento diversi giorni fa parliamo della questione dell'allenatore, di Fonseca e di Van Bommel perché? Perché vi ricordate qualche giorno fa quando vi dicevo che prima della scelta di Fonseca, quindi parliamo già di diverse settimane fa quando vi dicevo che c'era un testa a testa tra Fonseca e Van Bommel Van Bommel era caldeggiato da Zlatan Ibrahimovic Ibra voleva l'olandese, ex compagno di squadra al Milan ex compagno anche di scuderia sotto la procura di Minoraio insomma i due si conoscevano bene e Ibra caldeggiava l'arrivo di Van Bommel tant'è vero che ad un certo punto il nome di Van Bommel è stata la prima vera alternativa a Fonseca alla fine si va invece verso la scelta di Fonseca e secondo la gazzetta dello sport praticamente Fonseca non è stata proprio una scelta di Zlatan Ibrahimovic comunque poi speriamo che chiariranno anche questo aspetto speriamo che chiariranno un po' tutta la situazione sull'allenatore ormai è da più di un mese e mezzo che cerchiamo di capire di più di questa situazione dell'allenatore pare proprio che siamo arrivati ai giorni dell'annuncio e non sarà in questa settimana ma è slittato a settimana prossima quindi bisogna aspettare ancora una settimana circa per l'annuncio del nuovo allenatore e molto probabilmente per chiudere i contratti per preparare la documentazione per avere tutti gli ok per i contratti e poi verrà annunciato settimana prossima quindi ci stiamo avvicinando lentamente a questo annuncio poi speriamo che il Milan batta un colpo o meglio più colpi sul mercato perché ce n'è davvero bisogno se non si vuole puntare sull'allenatore almeno sulla squadra almeno sulla rosa il Milan deve puntare altrimenti sono guai nel senso che comunque viene a mancare veramente l'entusiasmo nel popolo rosso nero cioè c'è bisogno di un colpo per riaccendere un po' la fiamma per riaccendere un po' l'entusiasmo del popolo milanista ieri però se sul fronte allenatore il Milan tace ormai da più di un mese sì era veramente è veramente da tanto tempo che il Milan non si pronuncia sulla questione allenatore sulla questione stadio subito arrivano le note le smentite ma fanno anche bene perché è giusto mettere in chiaro delle cose mi sembra che questa situazione dello stadio stia diventando davvero paradossale stucchevole ora il problema qual è tra tutti i vari problemi è che non possono coesistere due stadi a distanza ravvicinata l'ipotetico stadio di Rozzano dell'Inter è quello di San Donato del Milan allora ragazzi se vogliamo trovare scuse allora facciamo questo esercizio di fantasia ma mi sembra davvero stucchevole e paradossale che ora si parla addirittura della distanza di due stadi innanzitutto il Milan allo stadio lo sta per fare a San Donato l'Inter non si sa ancora tanto è vero che vi dico che stamattina c'è il primo sopralluogo nella zona San Francesco se tutto va bene domani arrivano i mezzi per bonificare la zona di San Francesco domani ci sono i mezzi per cominciare la bonifica che verrà completata entro fine mese dove poi l'area di San Francesco verrà anche recintata il Milan ha fatto notare che il progetto del nuovo stadio attraverso questa nota a San Donato non trova alcuna incompatibilità con l'eventuale realizzazione di un nuovo impianto dell'Inter a Rozzano la distanza infatti tra le due strutture sarebbe di 13 km in linea d'aria mentre in città come a Londra convivono addirittura 8 stadi a distanze più ridotte inoltre la proposta del club rossonero è stata presentata su un'area privata ed edificabile la zona prosegue questa nota del Milan non rientra nel parco agricolo sud di Milano non è uno spazio verde ma è attualmente abbandonata questa zona è degradata quindi area privata non è del parco agricolo sud di Milano ed è una zona degradata e abbandonata il Milan la vuole riqualificare e c'è una distanza di 13 km con l'eventuale altro stadio dell'Inter a Rozzano quindi evitiamo di creare casi inutili e di dire che ci sono problematiche quindi passiamo ad un altro argomento dopo questa nota del club della società sullo stadio l'attaccante come dicevo prima se il nome dell'allenatore non scalda il popolo rosso nero che si aspettava probabilmente un nome più ambizioso da parte del club della società di alzare il livello l'asticella con un altro allenatore se questo nome di Fonseca come si vede in giro non cattura l'entusiasmo e la passione del tifoso e allora il Milan deve fare qualcosa sul mercato per battere un colpo per cercare di risollevare un po' l'entusiasmo e il morale della piazza ma per rendere anche la squadra ancora più competitiva e allora attenzione al nome di Gimenez di Santiago Gimenez del Feyenoord perché vi diciamo questo? già da qualche giorno stiamo come dire parlando di Gimenez con un po' più di insistenza perché sugli altri candidati ad essere diciamo l'attaccante principale del Milan ci sono un po' di problematiche su Zirk Zee le commissioni di Chia e Giorab Chan sono molto alte per quanto riguarda Sesco la clausola è aumentata a oltre 60-65 milioni di euro poi ci sono le commissioni e l'ingaggio del giocatore dell'Ipsia Ghilassin non convince del tutto e poi c'è il Borussia Dortmund che si sta inserendo e potrebbe essere comunque un pericolo e Gimenez invece può essere un attaccante come profilo profilo giusto per sostituire Giroud sicuramente diverso rispetto a Zirk Zee ma è più una punta è più un attaccante d'area di rigore è uno che segna l'anno scorso ha segnato 26 gol in tutta la stagione tra campionato e coppe ancora 23 anni quindi può ancora crescere tantissimo lui è un argentino nato a Buenos Aires ma con naturalizzato messicano tant'è vero che gioca nella nazionale messicana e anche qui il prezzo di 50 milioni minimo ma se uno vuole comprare un attaccante forte cari amici cari ragazzi bisogna spendere c'è poco da fare non è che si trova l'attaccante forte senza spendere piacerebbe a tutti trovare un attaccante da 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 20 gol da 25 gol e spendere 20 milioni di euro 30 milioni di euro purtroppo gli attaccanti forti si pagano e si pagano anche profumatamente soprattutto quelli che la buttano dentro perché poi il gioco del calcio è questo vince chi segna di più oltre comunque ad avere una difesa il Milan sostanzialmente insegna quest'anno che con 49 gol subiti nella serie A appena conclusa non si va da nessuna parte ma l'importante è avere anche un attacco forte quindi il Milan va a caccia della punta Jimenez può essere il nome giusto vediamo nei prossimi giorni se ci sarà un'accelerata però prima di tutto va chiusa la questione allenatore poi da lì a cascata la punta il difensore il centrocampista centrale il terzino e tutti gli acquisti che il Milan deve fare anche perché insomma la squadra va assolutamente rinforzata un abbraccio a tutti cari amici se vi va iscrivetevi al canale youtube attivate la campanella mettete like e commentate ciao